Buon pomeriggio, sono Michele Nomes, sono il vicepresidente dell'OIAI, voglio darvi il benvenuto a nome dell'intero istituto, in particolare al sottosegretario Perego, ai relatori, ai nostri ospiti e a quanti ci seguono da remoto. Il tema di questo convegno, come sapete, è il presente e il futuro dell'artiglieria nei conflitti ad alta intensità. Questo convegno viene fatto sulla base di uno studio che è stato effettuato dall'OIAI diretto dal nostro ricercatore, il dottor Elio Calcagno, che sarà pubblicato nelle prossime settimane in modo da poter tener conto del dibattito che oggi ci sarà. È uno studio che noi abbiamo fatto nel quadro della nostra partnership con Leonardo, che voglio ringraziare per il costante supporto che da molti anni ormai dà alla nostra attività di ricerca. Il mio saluto sarà particolarmente breve perché, purtroppo, per sopraggiunti impegni il sottosegretario Perego ci dovrà lasciare a breve e quindi interverrà all'inizio del convegno anziché alla fine. Io vorrei solo limitarmi a dare quattro spunti di riflessione. Il primo è necessariamente legato alla guerra in Ucraina perché ha evidenziato l'importanza di adeguare lo strumento militare a rischio di conflitti prolungati su larga scala e ad alta intensità alla quale non eravamo più abituati. In questo contesto, il secondo spunto, è chiaro a tutti che l'artiglieria ha riacquistato una grande importanza, soprattutto per quanto riguarda qualità, quantità, portata, ma anche il tema delle scorte del munizionamento commisurate alla minaccia. Il terzo spunto è che, mai come in questo momento, possiamo dire che una capacità militare efficace è sempre più legata all'integrazione di ogni sistema d'arma dentro una più ampia gamma di assetti, compresi sistemi avanzati ai star. Infine, quarto spunto, più recente, gli avvenimenti che si sono sviluppati nel Mar Rosso in questi mesi hanno dimostrato come anche l'artilleria navale stia acquisendo un ruolo di primo piano come soluzione efficace e economicamente sostenibile nei confronti di minacce come sono quelle che oggi possono essere portate dai droni, soprattutto se usati in sciame. Tutte queste riflessioni, ovviamente, saranno meglio sviluppate, anche se in modo sintetico, dal dottor Calcagno. A questo punto non mi resta che passare il ponte di comando, se passate questo termine, alla dottoressa Giacobbe, direttore di Formica Air Press, che modererà il dibattito e che voglio anche lei ringraziare per la costante disponibilità nei confronti del nostro istituto. Grazie, professor Nones, grazie per questa introduzione, grazie all'OIAI per aver promosso questo momento di confronto su un tema veramente molto delicato, molto di settore, ma sentito in questo momento. Prima di dare la parola a Elio Calcagno, che ci presenterà appunto il report, io volevo presentare gli ospiti che sono qui con me e che comunque commenteranno poi, dopo il sottosegretario Matteo Perigo di Cremnago, appunto il report che verrà presentato e quindi li saluto Claudio Di Leone, benvenuto direttore della direzione degli armamenti terrestri, benvenuto Lorenzo Mariani, condirettore generale di Leonardo, benvenuto Giuseppe Beruti-Bergotto, sotto capo di stato maggiore della Marina Militare, benvenuto, benvenuto Carlo Lamanna, comandante per la formazione e specializzazione dottrina dell'esercito, benvenuto Fabio Agostini, capo reparto pianificazione e esercitazioni del COVI. Bene, dottor Elio Calcagno, prego a lei la parola per la presentazione del report. Grazie Flavia, buon pomeriggio a tutti. Il mio intervento toccherà alcuni degli aspetti cruciali del nostro studio, che guarda, come abbiamo già sentito, all'artiglieria terrestre ma anche a quella navale, analizzando questi strumenti in ottica delle dinamiche osservate in Ucraina. Però lo studio intende anche andare oltre, specialmente per quel che riguarda l'artiglieria navale, poiché il conflitto ucraino, lo sappiamo, ha le sue specificità. E non possiamo, ne vogliamo, cadere nell'errore di pensare che qualsiasi elezione appresa o osservata in Ucraina si possa applicare al 100% alla nostra difesa. Però possiamo sicuramente trarne delle riflessioni importanti. Tornando allo studio, come al solito, nello stile AI, abbiamo voluto includere anche diversi casi studio su altri Paesi, quindi parleremo, nello studio scriveremo di Francia, Regno Unito e Stati Uniti, completando poi il quadro con dei ragionamenti più generali sull'artiglieria e trasversali. Inizierò parlando dell'artiglieria terrestre. Oggi questo, lo abbiamo già sentito, è uno strumento rilevante, forse più rilevante di quanto non lo fosse dieci anni fa. O almeno lo è per i Paesi NATO, perché per la Russia in realtà non ha mai perso di rilevanza. E infatti nel dominio terrestre l'artiglieria ha per decenni assunto un po' un ruolo secondario rispetto ad altre capacità. Fra queste il potere aereo che però, in scenari di conflitto fra forze alla pari, deve affrontare dei sistemi di difesa aerea avanzati e quindi non gode della stessa libertà di azione che per lungo tempo abbiamo forse dato un po' per scontata. In Ucraina vediamo che l'artiglieria continua a giocare un ruolo fondamentale nella marovra delle forze terrestri e svolge i compiti tradizionali di questo strumento, che sono la soppressione del fuoco nemico, colpire gli obiettivi nemici di alto valore, rompere e disturbare le concentrazioni di forze e appoggiare la manovra tramite il supporto di fuoco. Se pensiamo alla Russia come la principale minaccia per la sicurezza europea, è utile osservare che l'approccio di Mosca all'artiglieria si è cambiato davvero poco dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica. E un po' semplificando, forse, se in Occidente si tende a sparare per facilitare la manovra delle forze terrestri, i russi pensano di più a manovrare per poter spostare le loro batterie e colpire l'avversario in modo massiccio. In altre parole, quindi, la Nato predilige la precisione rispetto al volume di fuoco. Questa preferenza ha portato alla situazione di oggi, dove i paesi Nato generalmente accusano un gap quantitativo rispetto alla Russia, cioè nel numero totale di bocche da fuoco a disposizione. Se questa filosofia difficilmente cambierà in futuro, è abbastanza chiaro che le forze Nato dovranno investire risorse importanti nell'adeguamento dello strumento d'artiglieria in termini puramente numerici, oltre che qualitativi. In Ucraina stiamo assistendo proprio ad un uso massiccio dell'artiglieria, che è limitato principalmente dalla scarsità di munizioni. Questo un po' da entrambe le parti, anche se ovviamente molto di più da parte ucraina. Il conflitto, però, lo accennavamo prima, ha le sue peculiarità. E tant'è che il discorso sull'inefficienza, presunta inefficacia del potere aereo, è utile, però non possiamo, pensando a un conflitto fra Russia e Nato, ignorare la netta superiorità tecnologica in termini di mezzi aerei di cui gode la Nato, inclusa ovviamente la tecnologia stealth. Questa tecnologia ovviamente non è più a pannaggio dei soli americani, ma è sempre più diffusa nella Nato grazie all'F35. In ogni caso, in ottica di deterrenza sul continente europeo, l'artiglieria, inclusa quella di tipo monotubo, soprattutto gli obici, continuerà a giocare un ruolo fondamentale. Dovranno però aumentare i numeri e diversi Paesi si stanno già muovendo in questa direzione, ammodernando e rafforzando la loro capacità. Sarà poi importante riuscire a definire bene l'equilibrio giusto fra alte artiglierie monotubo e pluritubo, quindi lanciarazzi multipli e più in generale i sistemi a lungo raggio, conosciuti anche come long range fires. Certo, un lanciarazzi multiplo come l'Aimars può lanciare razzi guidati con un payload e precisione molto maggiori di un obice, per non parlare di un missile balistico come l'Atacam, che può colpire a 300 km di distanza. Però gli obici hanno dei vantaggi chiari in termini di volume di fuoco, facilità di utilizzo, costruzione e manutenzione, ed essendo sistemi generalmente meno complessi, come poi le rispettive munizioni, possono essere acquistati in quantità più grandi. Inoltre, grazie poi alle munizioni guidate, di cui parliamo molto nello studio, i normali sistemi di artiglieria monotubo possono essere trasformati in sistemi di precisione ad una frazione del costo di missili razzi guidati, seppure con gittate inferiori. In questo campo l'Italia e la sua industria sono fra i leader a livello globale e dovranno un po' saper cogliere le opportunità che si presenteranno nel contesto attuale. In ogni caso, viste le diverse caratteristiche, i long range fires insieme all'artiglieria monotubo continueranno a ricoprire ruoli complementari. Tant'è che nello studio parliamo di un high-low mix che sia impiegato in modo integrato e sinergico con la capacità, e questo è cruciale, di selezionare e prioritizzare i bersagli assegnandole alle batterie giuste nel momento giusto. Con ogni probabilità in questo mix dovranno rientrare altre capacità, pensiamo alle loitering munitions e i droni tattici armati. E poi l'artiglieria non può essere esaminata in isolamento, ma dobbiamo inserirla in un ampio ventaglio di capacità in altri domini operativi, come le armi lanciate da aerei ed elicotteri, per esempio. Detto questo, l'efficacia dell'artiglieria non può dipendere dai soli numeri o dal solo numero di erogatori disponibili. Deve servirsi di strumenti adatti alle attività di ISTAR, come citava il professor Nones, ma anche di valutazione degli effetti, il Battle Damage Assessment. E in questo ambito, di nuovo, i droni giocano un ruolo sempre più importante, come tra l'altro spiega nel capitolo sul caso studio ucraino il collega Nicolo Amurgia. Diventano poi sempre più indispensabili i radar controfuoco per un fuoco di controbatteria preciso ed efficace, anche questi da acquistare in numeri consoni alla minaccia. Guardando al futuro possiamo farci un'idea di dove si sta muovendo l'artiglieria. Per essere davvero efficace deve essere survivable, deve essere in grado di sopravvivere alle minacce sempre più numerose ed efficaci. E per essere survivable deve esibire le seguenti caratteristiche. La gittata, la mobilità e la precisione. E in quest'ottica, per quello che riguarda l'artiglieria monotubo, gli obici semoventi risultano essere l'opzione più gettonata al momento, con un focus sempre maggiore sulla mobilità. Proprio per aumentarne la mobilità sono in corso diversi studi di fattibilità in Europa, con anche un prototipo in Europa già capace di sparare in movimento. Gli obici semoventi, tra l'altro, possono diventare ancora più utili se equipaggiati con munizioni guidate, come ovviamente il caso dei PZH 2000 dell'esercito italiano con i proietti guidati Vulcano. L'adeguamento delle forze d'artiglieria passerà anche attraverso nuove o riviste modalità di impiego. E ad esempio, molto importante, le forze, come dice l'esercito stesso, devono essere dispiegate in modo diradato, evitando concentrazioni di batterie che ne rivelano troppo facilmente la posizione. Così anche la logistica che alimenta le batterie dovrà essere distribuita e capillare. E a proposito di logistica, la guerra in Ucraina ha dimostrato quanto sia fondamentale la capacità di alimentare gli erogatori di fuoco con un flusso adeguato e sostenibile di munizioni. E questo rimane un po' una nota dolente in Europa, dove il tema dell'artiglieria e del munizionamento ha rivelato anche problematiche relative proprio all'approvvigionamento delle materie prime, come l'acciaio e i materiali esplosivi. Passo al dominio navale, dove l'artiglieria svolge compiti ovviamente spesso diversi da quella terrestre, ma non è certamente meno rilevante. E per questo il nostro studio dedica un capitolo proprio a questo, è scritto da Eugenio Po. E l'argomento è ancora più attuale ovviamente dopo gli avvenimenti del Mar Rosso, dove la Marina Italiana e altre marine europee stanno abbattendo droni lanciati dagli UTI proprio con l'ausilio di cannoni navali. E questa sembra essere un'ottima soluzione per contrastare minacce anche relativamente rudimentali come i droni, senza però dover contare esclusivamente su missili molto più costosi e disponibili in numeri limitati. Gli sforzi dell'industria e della Marina Militare, che hanno creduto molto nel ruolo dell'artiglieria navale per la difesa antimissile e contraerea, va detto più di altri alleati NATO, stanno ripagando credo gli investimenti con una capacità affidabile e già matura. E anche questo campo le munizioni guidate chiaramente giocano un ruolo fondamentale e aumentano di molto la spendibilità di questo strumento all'interno di una difesa a strati della nave verso minacce di diverso tipo, ma anche nel supporto di operazioni a terra. Abbiamo osservato tra l'altro in Ucraina come dei droni di superficie siano stati in grado di mettere fuori combattimento diverse navi da guerra russe che non sono stati in grado di fermarli anche dopo averli individuati perché non avevano o non sapevano usare gli strumenti adatti. E l'artiglieria navale potrebbe essere parte proprio di una soluzione sostenibile a questo tipo di minaccia. In generale risulta evidente che l'artiglieria disponibile in diversi calibri rimalla cruciale proprio per l'autodifesa delle navi. E in questo campo l'Italia è assolutamente una dei leader mondiali e l'artiglieria navale italiana è comprata da marine di tutto il mondo. Quindi anche in questo caso sarà necessario continuare a sviluppare le nostre capacità, costruire stock di munizioni adeguati in modo sostenibile nel lungo termine. Grazie. Grazie Luca Alcagno per la presentazione del report, uno scenario perfetto con la situazione attuale, ecco l'auspicio per il futuro, gli scenari operativi e ecco la situazione un poi italiana. Prima di avere il piacere di commentare questo report con gli ospiti che sono qui abbiamo il privilegio di avere l'autorità politica che lo commenterà per noi all'inizio subito. Quindi Matteo Perrico di Pregnago, prego a lei la parola per un commento sul report dell'OIAI. Grazie, grazie Michele Nones, vicepresidente dell'OIAI, grazie a dottoressa Giacobbe, grazie a tutti i relatori che interverranno con certamente più competenze del sottoscritto in materia, ma sono felice di dare il mio contributo politico a questa riflessione e ancora una volta ringraziare l'OIAI perché grazie a questi studi mette in luce quelle che sono le esigenze del nostro sistema di difesa e soprattutto ogni volta che vengo all'OIAI trovo dei lavori, dei dossier fatti con grande professionalità e capacità, per cui questo me ne complimento. L'artiglieria, ma già nel titolo si capisce quanto sia rimasto uno strumento imprescindibile nei conflitti ad alta intensità, ma mi piace pensare che la guerra in Ucraina sia stata, per certi versi passatemi la metafora, un po' una doccia fredda. Cioè ha risvegliato in ciascuno di noi la necessità di rivedere completamente dei paradigmi e dei fondamentali della difesa. Significa immaginare una pianificazione di scorte con maggiore profondità e quindi significa lavorare, e mi giro verso l'industria, con capacità di produrre in tempi significativamente ridotti e avere una resilienza nazionale, perché nel momento in cui dobbiamo approvvigionarci di scorte, di munizioni sul mercato, scontiamo le esigenze del singolo Paese che produce queste munizioni, che per cui l'Italia ad esempio viene in coda rispetto alle esigenze nazionali. Per cui cosa ci ha insegnato l'Ucraina? Ci ha insegnato sicuramente dal punto di vista dell'artiglieria quanto sia uno strumento fondamentale, quanto avere delle scorte in profondità sia importante, però come quanto anche questo conflitto si giochi su una dimensione multidominio. Quindi noi dobbiamo oggi con delle esigenze finanziarie che sicuramente devono crescere e sono cresciute rispetto al passato. Se pensiamo che viaggiamo ancora all'1,58% del PIL sulla difesa, rispetto al traguardo del 2% siamo ancora lontani. Io ho finamente condiviso e condivido la battaglia del nostro Ministro della Difesa, l'On. Crosetto, sull'esclusione del patto di stabilità delle spese della difesa. Questo credo che sia una battaglia sacrosanta. Altrimenti faccio fatica a pensare come potremo da una parte alimentare l'artiglieria intesa come munizione scorte e sistemi. Dall'altra parte soddisfare le esigenze nel dominio cyber, l'underwater, il dominio cognitivo, la spesa economica, il dominio spaziale inteso come dominio operativo. Se penso all'esercito, l'MGCS, l'AICS, quindi l'infantry e il carico razzati. Quindi un investimento che soltanto per queste due componenti supera i 10 miliardi. Allora significa guardare intanto con la capacità di pianificare in tempi molto più brevi. Noi siamo abituati a ragionare in un'ottica di sistemi che hanno da una programmazione a un'esecuzione a un'attuazione a una decina da anni. Oggi tutto è molto più veloce. Abbiamo parlato prima della componente artiglieria e in particolare della capacità che abbiamo industriali, se penso alle munizioni di Davide e Vulcano, le munizioni guidate da impiegare contro i droni. Oggi il Ministro Crogetto ha citato quanto la minaccia a UTI sia diventata ormai molto più pericolosa e più rappresentativa di quanto siamo di fronte a un concetto di guerra ibrida, lo ripetiamo spesso. Quindi la capacità attraverso sistemi anche a basso costo, come alcuni droni Shahed impiegati dai UTI di fabbricazione iraniana, possa paralizzare l'economia di un Paese come il nostro, limitare gli accessi al canale di Suez, che sono diminuiti del 17%, quindi avere impatti sulla nostra economia. Quando si parla di droni, quindi anche di artiglieria da impiegare nel contrastare i droni, si parla di un mondo che cresce a una velocità siderale rispetto al passato. Oggi un sistema dopo un anno è obsoleto. Proviamo a immaginare se i sistemi tradizionali della difesa che noi con tanta fatica pianifichiamo, finanziamo, portiamo in Parlamento, eccetera, 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 in un'ottica di una finestra temporale di dieci anni deve essere tutto compresso in un anno. Significa spogliarsi completamente di quella che era la nostra idea di pianificazione sulla difesa per adeguarla alle esigenze contemporanee. Ed è uno sforzo molto difficile, soprattutto perché bisogna farlo in concerto con un Paese. Perché noi non possiamo, a volte ci parliamo tra di noi, all'interno del sistema difesa. Invece noi dobbiamo ovviamente coinvolgere innanzitutto il complesso del Governo, ma poi il sistema Paese per recepire quanto le risorse finanziarie siano importanti e siano importanti oggi, altrimenti non potremo mai soddisfare le nostre esigenze. Poi, io uso questo termine di competitività strategica fra le industrie, fra le industrie nazionali e fra le industrie europee. Sapete che il dibattito sulla difesa europea ha animato molto le elezioni elettorali che si sono appena concluse e tutti diciamo non è più rinviabile un concetto di difesa europea. Diciamo anche che ci riempiamo un po' troppo spesso la bocca delle parole difesa europea, ma dov'è la sostanza di questo discorso? Dove si deve arrivare? Nell'essere consapevoli di dover diminuire il numero di sistemi, rafforzare le partnership industriali. Perché se potremmo immaginare in un futuro di avere degli eserciti comuni, ma questo sarà il futuro, certamente oggi dobbiamo essere consapevoli che bisogna ragionare di sistemi di difesa comune. Per cui è l'industria che guida la difesa europea ancora una volta e sarà la capacità del Governo di sostenere le nostre industrie in sede europea che permetterà al nostro Paese di essere competitivo. Voglio citare una frase che ho utilizzato anche in un altro convegno che secondo me rappresenta molto bene metaforicamente l'epoca in cui viviamo. Tempi difficili creano uomini forti, gli uomini forti creano tempi facili, i tempi facili creano uomini deboli, gli uomini deboli creano tempi difficili. Lascio a voi interpretare in quale delle file storiche stiamo vivendo. Credo che sicuramente stiamo vivendo in un'epoca difficile, quindi non so se è per colpa di chi era prima di noi, però spetta a noi in questo momento traguardare gli obiettivi molto importanti, non dimenticando nulla. L'Ucraina vede un conflitto che dalle trincee del primo novecento passa per la dimensione cyber, lo spazio, lo spazio nella dimensione privata se pensiamo ad attori come Starlink, come Elon Musk. Tutto questo serve come lezione per essere consapevoli che la sinergia, l'interazione fra pubblico privato, uno sforzo maggiore nella dimensione non tanto interforza ma di ragionando sugli effetti che vogliamo produrre nei vari domini. Questo credo sia il vero paradigma, oltre a un concetto di multidominio tradizionale. Tutto questo lo possiamo fare con menti brillanti, aperte al cambiamento, all'innovazione e anche grazie a stimoli come quelli che abbiamo ascoltato dal dossier di oggi che ci devono portare a cambiare velocemente, senza paura, senza avere la fretta di portare a casa risultati ma certamente con la visione strategica ma anche con la determinazione a non fermarsi di fronte agli ostacoli. Grazie a tutti. Grazie, grazie Sottosegretario per il suo intervento, un intervento naturalmente di scenario che adesso ci ha preparato il terreno invece per andare a parlare nei particolari dell'artiglieria lunga gittata. Lo faremo intanto con l'ammiraglio Berrutti Bergotto. Partiamo dall'impiego militare della Marina. Qual è l'evisione della Marina militare sull'utilizzo dell'artiglieria nelle operazioni navali? Abbiamo visto, ce l'ha anticipato Elio Calcagno, l'ha nominato anche il Professor Nones, anche il Sottosegretario dell'impiego nel Mar Rosso, che comunque è stato evidente, è stato molto importante in uso antidroni, eccetera. insomma, contro... e poi anche nel Mar Nero invece, da parte degli ucraini contro la Marina russa. Prego. Grazie. Buonasera, signor Sottosegretario, colleghi. Io volevo subito dire alcune cose. La prima è che negli anni passati c'è stata una tendenza da parte di molte marine di preferire per le navi maggiori i sistemi missilistici. Molte marine hanno deciso di mettere da parte il sistema artiglieresco nelle navi maggiori e andare tutte su una difesa missilistica. Noi siamo convinti che anche nel futuro l'artiglieria deve essere a bordo delle navi. Questo perché permette quell'integrazione di sistema d'arma che aveva accennato proprio il Professor Calcagno e ci permette di avere una strategia di stratificazione di impiego. Sistema missilistico a lungo partata a corto raggio un sistema artiglieresco. Noi continuiamo su questa strada. Questo ci permette di avere una difesa stratificata in questo senso. Ci permette di avere costa efficacia, perché come aveva accennato il Sottosegretario, un drone grasso che colla costa 20 mila euro e un missile costa 3.2 milioni. Quindi con un proiettile dell'artiglieria riusciamo a mantenere basso il costo efficace. Ridondanza, ovviamente abbiamo la doppia possibilità di impiego missilistico, se non va bene, di impiego che è successo. Poi vi dirò quello che è successo in Mar Rosso. Possiamo utilizzare l'artiglieria per dissuasione. Non è detto che il primo colpo deve colpire la nave. Un warning shot può servire soprattutto per quelle attività di situazioni delicate. Un colpo d'artiglieria non è facilmente prendibile ai radar, è difficile scoprirlo, quindi arriva quasi di nascosto, specialmente se utilizziamo le artiglierie con il munizionamento ventugidato vulcano che può sparare a 80 chilometri. L'attuale munizionamento è molto preciso, non solo perché i colpi sono guidati, ma anche perché i sistemi che li guidano e che li conducono sono molto più precisi del passato. E infine la possibilità di approvvigiare rapidamente il colpo e anche il trasferimento da una nave all'altro è molto più rapido. Ora, io volevo fare due lezioni, apprendimento guerra di Ucraina e apprendimento quello che sta successo nel Mar Rosso. Allora, se avete visto, le navi anche maggiori della Federazione Russa sono state quasi tutte affondate da dei mezzi, devo dire molto rudimentali all'inizio, ora stanno diventando sempre un po' più sofisticati, che sono dei motoscafi bassi, difficilmente da scoprire, difficilmente da agganciare. Infatti tutti i filmati che ci sono anche in Internet fanno vedere che vengono sparati tantissimi colpi, invece questi mezzi con dei rapidi movimenti riescono a superare e a colpire. Allora, per ingaggiare quei mezzi ci servono dei sistemi che siano in grado di cambiare rapidamente la rotta del proiettivo. Se io uso l'artiglieria normale, quella lì spara sul punto futuro, moto, rettilineo e uniforme, che non sono quelli che fanno questi bersagli perché sono molti barrovieri. In quel caso un montezionamento guidato tipo Davide è quello adatto perché ti permette di variare la rotta del proiette in volo, quindi quello in quella situazione è la migliore soluzione. L'ultima situazione è il fuoco di sbarramento, però quello lì è veramente l'ultima spiaggia. Noi lo utilizzeremo sotto gli 800 metri perché il montezionamento guidato funziona solo dagli 800 metri in poi. Quindi l'unico modo per cercare di abbattere un bersaglio del genere è l'artiglieria perché un missile a quella distanza, a quella velocità, a quella quota difficilmente riesce a colpire. Noi abbiamo avuto l'esempio nel Mar Rosso quando abbiamo lanciato un Aster contro un drone che volava veramente basso e si è infilato in acqua perché a quel punto anche la testa del missile difficilmente riesce a distinguere, a un metro stiamo parlando di 50 centimetri, riesce a distinguere quel bersaglio dove è l'acqua. Quindi il munizionamento guidato in quell'occasione è il migliore che possa essere impiegato. Per quanto riguarda i droni aerei, l'esperienza che abbiamo vissuto nel Mar Rosso, essendo dei bersagli lenti, massimo 170 nodi, essendo dei bersagli anche abbastanza manovrieri, l'esperienza ci ha fatto capire che un colpo da 76, ancorché non guidato, ma con delle spolette di professionità riesce a colpire il bersaglio. I nostri sistemi di artiglieria hanno una modalità che permette di... si chiama scortometria automatica. Vede la distanza tra il proietto e il bersaglio e nel successivo colpo la giusta. Questa qui entra in funzione dal decimo colpo in poi. Quindi se uno spara una raffica di 10 colpi, difficilmente viene il risultato. Può succedere che uno è fortunato, come noi in un caso, che abbiamo abbattuto un drone molto basso, a circa 3.000 metri, con una raffica di... al settimo colpo il drone è caduto. Nelle altre due casi, perché sono stati abbattuti tre droni con i cannoni, negli altri due casi abbiamo dovuto sparare delle raffiche di 20 colpi per abbattere il drone. Però pensate che in altre situazioni abbiamo abbattuto il drone, un po' più distante, 10 km, con un Aster 30, 3.2. In questo caso l'abbiamo abbattuto con 20 colpi, ma meno di 30.000 euro. Quindi pertanto cominciamo già a avvicinarsi. Pertanto quello che noi vogliamo continuare a fare è mantenere l'utilizzo delle artiglierie sulle nostre navi, andare sul munizionamento guidato, mantenere anche il munizionamento di prossimità, perché il munizionamento di prossimità ti permette di contrastare dei bersagli un po' più lenti e quindi di risparmiare alla fine dei fondi. Mantenere l'artiglieria da 127, che attualmente è l'unica che ci permette una reazione contro bersagli terrestri e contro bersagli di superficie che si muovono un po' più a lento moto e non con delle manovre rapide e veloci. Il munizionamento vulcano l'abbiamo utilizzato nella fase di collaudo e ha dato sicuramente degli ottimi risultati, tenendo conto che il munizionamento nella fase finale può essere guidato o da GPS, però il GPS viene inserito alla fase di partenza del colpo, pertanto è utilizzabile contro un bersaglio terrestre fisso, oppure con una guida infrarosso nella fase finale che può essere utilizzato in un bersaglio navale che si muove non a velocità elevate. Stiamo cercando di integrare anche i colpi da 30 mm, abbiamo uno studio in corso che permette di fare un volume di fuoco di sbarramento anche a distanze più ravvicinate. Pertanto la lezione che è venuta dal campo è quello di mantenere le artiglierie, anche il ruolo antiaereo, cosa che molte marine, tra cui quella francese, ancorché abbiano imbarcato sistemi come i nostri, non utilizzano in antiaereo. Quindi la marina ha una filosofia di impiego che è legata a tutto il sistema missilistico. Noi vogliamo mantenere, perché i risultati che abbiamo ottenuti ci hanno dato, devo dire, dei buoni ritorni dal campo. Ho finito. Grazie, un briefing operativo praticamente ci ha fatto. Grazie davvero. Salutiamo il sottosegretario che... Grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie per questo briefing operativo. Io sono andato proprio sul tattico perché... No, no, noi abbiamo preso punti, è stato veramente molto interessante. Adesso passiamo dall'impiego navale a quello terrestre invece, con il generale Lamanna. Ecco, le principali linee di evoluzione concettuale anche di capacità dell'artiglieria terrestre. Generale, prego. Buon pomeriggio. Allora, riferendo, prima ho sentito parlare del conflitto in Ucraina. Ecco, l'artiglieria è essenziale, è cruciale, anche perché non volano troppi aerei. Per un dato di fatto, un dato di fatto, e cioè c'è sostanzialmente una non superiorità aerea da ambo le parti. E quindi in questo scenario l'artiglieria assume un ruolo fondamentale. Ci sono ragioni evidenti, fattuali, che rivelano come sia importante il ruolo dell'artiglieria in Ucraina. Sorvolo, qualcosa è stato già detto, poi magari ci ritorno. Quello che è importante è che, abbiamo detto prima, ci siamo svegliati. Ci siamo svegliati dopo 30 anni di operazioni di stabilizzazione, di counter-insurgency e counter-terrorism. Questi 30 anni, però, li vorrei, diciamo, chiudere a sei anni fa, cinque anni fa. Ringrazio anche per la presenza del generale Serino, che nel suo insediamento ha proprio riferito dell'importanza dell'artiglieria negli scenari moderni. Ricordo anche che al termine del suo mandato è stato costituito un altro reggimento di artiglieria, che è appunto il terzo bondone che sostanzialmente costituisce, diciamo, l'occhio dell'artiglieria, soprattutto alle lunghe distanze. Ma per venire sostanzialmente a ciò che stiamo facendo, quindi guardando a quello che sta succedendo in Ucraina, nel conflitto russo-ucraino, è importante valutare appunto in che modo le elezioni che traiamo da questo conflitto, in che modo occorre operare il potenziamento dell'artiglieria, per disporre di diversi erogatori di fuoco e di sensori necessari per coprire la profondità del campo di battaglia nella sua interezza, per disporre di sistemi di difesa efficaci per la protezione dei nostri assetti, perché è inutile mettere sul terreno, sul campo di battaglia, assetti costosissimi, seppur efficaci, e poi non difenderli. Quindi qui non citerò abbastanza, va bene, l'artiglieria contraere, ma è l'altra faccia della medaglia dell'artiglieria. L'artiglieria quando va pensata nell'esercito va pensata nella doppia faccia, va bene, di artiglieria terrestre e artiglieria contraere. Poi su questo magari, se volete, diremo qualcos'altro. Cioè, in sintesi, l'attuale crisi ci ha riportato con i piedi per terra, facendoci prendere atto che le minacce che pensavamo sopite e limitate solo ad alcune aree, in realtà sono molto attive e richiedono azioni concrete, anche attraverso l'ammodernamento e il rinnovamento delle flotte di combattimento terrestre. In particolare, la condotta delle operazioni in combattimento su larga scala ha rivelato le principali tendenze nel dominio terrestre. E cioè, hanno riportato di nuovo l'attenzione su questi sistemi pesanti, di artiglieria pesante, che sono centrali per la condotta della manovra. La manovra dell'artiglieria è duale, è manovra degli schieramenti, manovra delle traiettorie. E quindi, quando parleremo di manovra dell'artiglieria, parleremo proprio dell'allungamento del braccio per consentire di operare a più distanze e a supporto di un'area dove sono schierate le forze di manovra molto più ampia. Ma allo stesso tempo, necessità di operare con cambi di schieramento continui per essere aderenti alla manovra e per essere soprattutto capaci di sfuggire al controfuoco avversario. Altra caratteristica in Ucraina è appunto la capacità dei russi di operare controfuoco in modo rapidissimo. Analizzando quindi soprattutto quello che sta succedendo in Ucraina, si evidenzia che oggi la manovra terrestre necessita di essere sempre più sopportata e agevolata dal fuoco di artiglieria. L'impiego dei nuovi sistemi a lungo raggio, integrati con i sistemi di sorveglianza e del campo di battaglia, che assicura un fuoco sempre più rapido, efficace e sicuro. E gli avversari inoltre dispongono di capacità che ci negano la nostra libertà d'azione, o ci riducono la nostra libertà d'azione. Quindi occorre operare in modo tale da superare la compromissione della capacità della componente aerea, di colpire in profondità e soprattutto la protezione delle forze, che è estremamente complessa. Per quanto attiene alla pianificazione e impiego del fuoco, ricordo che innanzitutto questo è un aspetto dell'assetto capacitivo per cui stiamo operando, cioè quello di far fronte ad ambiziosi obiettivi di capacità che dalla Nato all'Italia sono stati assegnati, secondo i quali l'artiglieria terrestre dovrà svilupparsi e tendere al raggiungimento delle capacità di erogare fuoco con efficacia a distanze sempre crescenti e soprattutto, secondo logiche di manovra dispersa e diradata, a supporto delle operazioni terrestri, al fine di garantire una capacità di interterrenza reale, credibile e percepibile da tutti. Richiamando alla memoria il geographical framework che tutti noi sappiamo essere riferito allo spazio temporale del svolgimento della manovra nel campo di battaglia, sia per la manovra a contatto sia per quella non a contatto, la pianificazione e la gestione del fuoco nella dottrina della Nato spiega che il fuoco è concepito con visione unitaria in serie di pianificazione operativa e interessa l'articolazione geografica di tutto il campo di battaglia, nella sua interezza. Quindi si estrinseca nella forma joint e appunto prevede l'erogazione del fuoco da parte di sistemi navali, aerei, terrestri. Per quanto riguarda inoltre la documentazione, la dottrina Nato, descrive quello che è il concetto di operare sul campo di battaglia coordinandosi. E quindi il fire support coordination è soprattutto il modo più efficace, più efficiente, più idoneo a evitare anche il fuoco fratricida. E nell'operare nella deep, close and rear battle è importante il rispetto delle linee di coordinamento. Linee di coordinamento del fuoco che non sono statiche, sono dinamiche. Quindi anche questo è un altro concetto in cui dobbiamo immedesimarci. Per quanto riguarda le operazioni in profondità, è qui il vero cambio di paradigma che l'esercito da qualche anno, soprattutto nell'ultimo anno, ha cominciato a operare. E cioè l'artiglieria non è più soltanto l'arma di supporto alla manovra, è anch'essa arma di manovra. È l'arma principale per le operazioni in profondità. E questo concetto, l'esercito, lo ha maturato anche guardando a ciò che avviene nei conflitti citati, soprattutto l'artiglieria è responsabile della relazione del fuoco indiretto nella manovra non a contatto, al fine di ingaggiare e distruggere le forze avversarie fino alle massime distanze, generando effetti nella dimensione fisica, cognitiva e morale, oltre chiaramente ad essere principale supporto del fuoco delle forze nella manovra a contatto, che è la funzione classica, la funzione di combat support. Ecco, una cosa che mi preme sempre a livello concettuale esprimere è che le parole del Capo di Stato con un giro dell'esercito recentemente, che riguardano sostanzialmente lo sviluppo dell'artiglieria, dice che dovrà essere incentrato questo sviluppo sulla trilogia, valori, addestramento e tecnologia. Sui valori ci sarebbe tanto da dire, ma non mi dilungo. Sull'addestramento vorrei dire, è un aspetto che forse non tocca tanto a chi non è immerso come artigliere nell'addestramento. Oggi mancano i poligoni dove poter fare addestramento e siamo e dobbiamo sempre di più ricorrere a poligoni fuori al territorio nazionale, per poter solo saggiare una parte delle peculiarità, delle possibilità di impiego dei nostri sistemi. Guardate che quando abbiamo negli ultimi anni fatto esercitazioni in alcuni paesi prossimi all'Equatore, ci siamo anche cimentati nel confrontarci con problemi tecnici, la rotazione terrestre che a certe distanze incide e come non può essere trascurata, riportata sulle tavole di tiro, ma per certe distanze, le distanze piccole a cui normalmente siamo abituati a sparare, per addestrarci, non sono questi dati tenuti in considerazione. Cosa diversa è quando ci si cimenta in questi più ampi scenari. Arrivando sostanzialmente al sistema di artiglieria, così come l'esercito lo concepisce adesso e in futuro. Il sistema di artiglieria è un sistema complesso, fatto di vari elementi e sono il sostegno logistico, la sorveglianza e l'acquisizione degli obiettivi, i mezzi di lancio, le munizioni, il supporto tecnico, il comando e controllo. Questo è il sistema di artiglieria. E chiaramente per poter parlare di un sistema che sia efficace ed efficiente bisogna che ognuno di questi elementi funzioni, sia aggiornato, sia innovato. Il più debole di questi componenti rende debole tutto il sistema. E quindi l'aspetto su cui vorrei innanzitutto richiamare l'attenzione dei miei artiglieri, degli artiglieri e dell'esercito è che bisogna curare tutti gli aspetti. Non sono soltanto i sistemi erogatori del fuoco, la cui gittata può in qualche modo migliorare o peggiorare la performance specifica. Ma se questo sistema non ci addestriamo a utilizzarlo e a utilizzarlo nelle varie situazioni, se questo sistema soprattutto non ha le munizioni e non ha munizioni diversificate per scopi, per necessità, se il sistema non è supportato da rifornimenti di munizioni, di mezzi di rifornimento adeguati, se il sistema artiglieria non è supportato da una logistica dei materiali e dei mezzi, ecco, il sistema non funziona. E concludendo, volevo citare quello che secondo me è l'aspetto su cui ci dobbiamo più impegnare, il sistema di comando e controllo. Il sistema che ci consente di integrare tutte queste parti, tutte queste componenti e poter far funzionare in modo efficace, integrato, il sistema artiglieria. La componente artiglieria è davvero essenziale, va potenziata, siamo sulla strada giusta, partendo dall'addestramento e dalla formazione del personale e arrivando sostanzialmente all'approvvigionamento di mezzi sempre più innovativi, noi riusciremo a superare questo gap che in questo momento vediamo molto ampio proprio nella componente artiglieria. Bene, grazie generale per il suo intervento. Mi dispiace che sia andato via il sottosegretario perché la parte comunque del tema dell'addestramento dei poligoni stranieri è un tema che sentiamo molto nel nostro paese dell'era, è importante che ci fosse l'autorità politica, ma glielo diremo. Sull'impiego in Ucraina ci tengo a precisare, sono tutti addetti lavori, però è importante che questo tema emerga, come l'ha rilevato anche Elio Calcagno prima, il caso ucraino è un caso molto peculiare perché diciamo in teatri in cui ci sono degli impieghi compaesi nato, c'è un po' eterereo sicuramente molto sviluppato e lì invece non c'è, quindi c'è un'esigenza di artiglieria molto più forte che in altri scenari. Bene, io la ringrazio, vi anticipo che visto che sono tutti addetti ai lavori qui, ma tutti addetti ai lavori anche in platea, qualora voleste preparare una domanda, ecco alla fine al termine dell'incontro sarà possibile rivolgerla ai relatori. Abbiamo parlato della parte navale, della parte terrestre, adesso la parte invece del multidominio, cioè l'approccio multidominio, la parte del COVI. Ammiraglio Fabio Agostini, ecco, ci parli dell'integrazione interforze dell'artiglieria moderna e quali sono comunque le sfide anche in termini di comando e controllo, come diceva prima il generale Lamanna. Prego. Grazie professore dell'invito, grazie ai colleghi che sono qui. È doveroso una, chiaramente una premessa che è un po' stata fatta. Negli ultimi anni, negli ultimi trent'anni l'artiglieria è stata soltanto relegata a un ruolo di deterrenza e difesa, visto il tipo di operazione che abbiamo condotto fino ad oggi. Le vicissitudini geopolitiche, sia in Ucraina, ma io metterei dentro anche quello che sta succedendo nella striscia di Gaza in questa analisi, hanno ridato all'artiglieria un ruolo molto più rilevante. È chiaro che sia l'artiglieria un po' riflette quella che è l'evoluzione del panorama dei conflitti che risentono chiaramente di tutta un'evoluzione dal punto di vista tecnologico. Abbiamo visto i sistemi di guida inerziale, i sistemi di pilotaggio remoto, l'evoluzione dei sistemi informativi, ISTAR, l'utilizzo di munizioni intelligenti e di piattaforme autonome e soprattutto lo sviluppo della dimensione spaziale e cibernetica, che chiaramente adesso cercherò anche un pochino di analizzare. Se ne è già parlato molto, non me ne voglia il generale Gandotti, però purtroppo la superiore aerea adesso non è più così facile da ottenere, soprattutto quando dall'altra parte ci sono delle forze fondamentalmente di pari livello e quindi, come già detto, non è sempre possibile garantire una superiore aerea e i sistemi anti-aereo moderni a questo ce lo impediscono. Questo ha imposto anche un adattamento delle strategie militari anche in considerazione di un altro fattore che a me poi per storia è anche abbastanza vicino, quello della comunicazione e della controinformazione. Al giorno d'oggi anche l'utilizzo dei sistemi d'arma viene sempre tenuto sotto una lente di ingrandimento particolare che è quella dell'informazione e della comunicazione. Dall'altra parte può essere strumentale, lo vediamo anche a Gaza dal punto di vista della controinformazione. Ne parlavamo appunto di Ucraina e Gaza perché tutti e due questi teatri ci hanno dato una vasta gamma di lezioni apprese, in particolare in entrambi i casi, a Gaza soprattutto da una parte, possiamo dire che l'insegnamento principale è che nelle guerre moderne non è più possibile pensare all'impiego monocomponente dell'artiglieria, ma va visto in una forma molto più integrata, molto più sinergica e decisamente una formula che comprenda tutti e cinque i domini, non soltanto quello terrestre, aereo e marittimo, ma necessariamente anche quello spaziale e quello cibernetico. Delle varie considerazioni sulla guerra russo-ucraina abbiamo già stato detto molto, va accennato appunto che la Russia sta utilizzando, ha utilizzato anche ampiamente i sistemi missilistici dal marreno per battere le postazioni dell'Ucraina, mentre l'Ucraina, cercando di una maggiore precisione per evitare danni collaterali, ha usato delle tecniche asimmetriche, ma lo scopo era comunque di colpire in profondità, colpire le linee di comunicazione, colpire i centri di controllo dell'avversario. Adesso vedremo anche il perché. In entrambi i casi i droni hanno costituito un elemento fondamentale sia dal punto di vista della sorveglianza, del riconoscimento, della precisione del tiro, ma anche come vettore d'arma, l'abbiamo visto in moltissimi casi. Da segnalare, è stato già accennato dal dottor Calcagno, l'importanza, un elemento fondamentale per la pianificazione, ma anche per il comando del controllo è l'enorme dispendio di munizioni che c'è stato. Se ricordiamo all'inizio del conflitto, fino alla metà del 2022, gli russi sparavano qualcosa come 60.000 colpi di artiglieria al giorno. Per forza di cose, ad oggi siamo intorno ai 10-12.000 colpi di artiglieria al giorno, questo dovuto al fatto che le scotte si sono esaurite, anche con l'aiuto di alcuni paesi amici non sono state sufficienti per ripianarle. La Russia sta parlando di un'economia che gli permetterà di arrivare a 2 milioni di colpi l'anno nel 2026, ma sono dati ancora lontani da arrivare. Questo a fronte dei 2.000 colpi l'anno che sta utilizzando l'Ucraina. Quindi questi sono fattori che vanno considerati nella nostra pianificazione. Pianificazione quindi in cui l'artiglieria, come diceva giustamente il generale Amanna, decessita di essere considerata con nuovi paradigmi, non più come un sistema, una capacità da utilizzare soltanto tra le forze a contatto, ma una capacità che deve arrivare fino in fondo, fino alla parte più arretrata delle forze nemiche su tutta l'area di operazione. Considerando non solo l'artiglieria, ma la necessità di agire nel livello multidominio, vediamo che l'area di operazione e quindi una maggiore difficoltà di pianificazione, l'area di operazione diventa molto più sfumata, se consideriamo anche l'esigenza di considerare l'ambiente spazio e l'ambiente cibernetico. Quello che si deve tentare di fare dal punto di vista pianificazione è cercare di andare a intercettare le linee di comunicazione del nemico, le linee logistiche, le linee di comando e controllo già in profondità, per evitare che questi possano produrre degli effetti tangibili o importanti sulla linea del fronte. Questo ampliamento dell'area di operazione, questa complessità cresciuta dell'area dove è necessario produrre degli effetti, impone una maggiore capacità di sincronizzazione, di coordinamento attraverso tutti i livelli, da quello strategico a quello operativo a quello tattico. Quindi, prima di tutto, abbiamo detto, lo ribadisco, la pianificazione operativa deve diventare sempre di più multilivello e considerare tutte le capacità che abbiamo di esposizione, terra, mare, aria, spazio e cyber. Chiaramente questo, passo alla seconda parte della risposta, impone anche delle sfide al comando e controllo delle forze. Prima di tutto, la sfida dell'interoperabilità. Le nostre forze armate, lo sappiamo, non hanno sistemi completamente interoperabili. C'è necessità di una maggiore interoperabilità sia nei sistemi di comando e controllo, sia nei sistemi di comunicazione, sia nei sistemi di targeting, sia nei sistemi di interfaccia tra i vari sistemi d'arma. È necessario, lo diceva prima Generala Manna, stabilire dei canali di comunicazione sicuri per una maggiore coordinazione, per ottenere la maggiore coordinazione possibile. E per questo ci vengono incontro le risorse satellitari, chiaramente, che ci aiutano sia a migliorare la nostra conoscenza, sia a migliorare la nostra precisione. Quindi fare maggiore, diciamo, attenzione e avere un targeting molto più preciso per la salvaguardia della vita umana dei civili. Ma allo stesso tempo dobbiamo avere adeguate capacità cibernetiche per proteggere le nostre comunicazioni, per proteggere i nostri sistemi di comando e controllo e per eventualmente sfruttare le nostre capacità cibernetiche anche nello spazio dell'avversario. È chiaro che le informazioni sono fondamentali, le informazioni, i sistemi di informazione, le catene di comando e controllo devono essere pronte e reattive. Non si può arrivare a dover, in ogni caso, arrivare al vertice di un comando per poter prendere la decisione di battere o non battere un bersaglio. E vado verso la conclusione. È necessario un sistema di centralizzazione del comando per alcune decisioni di grande livello, per determinare quali sono gli obiettivi di più grande livello e per determinare quali effetti si vogliono ottenere sul terreno. Ma poi ci vuole un sistema anche decentrato, di comando e controllo, più decentrato, che lascia alle componenti la capacità, le componenti che sono in teatro operativo, che sono a contatto con il nemico, una maggiore libertà d'azione per poter permettere una maggiore efficacia. Quindi, in conclusione, integrazione, sinergia, sempre maggiore considerazione dei cinque domini. È un sistema di comando e controllo che sia bilanciato tra necessità di accentramento e necessità di delega. Grazie. Grazie. Grazie, Ammiraglio, per il suo intervento. A questo punto abbiamo sentito che vorrebbero le forze armate, i loro spicci. Ora vediamo nel concreto, invece, come stiamo affrontando l'adeguamento di queste capacità con il generale Di Leone. Prego. Grazie, innanzitutto, per l'invito a prendere parte in questa posizione privilegiata, questo consesso sull'artiglieria. La prima cosa mi viene da dire che lo studio di cui mi complimento ha scritto con gli AI e con chi l'ha scritto, quindi calcagno e marrone, perché in effetti è molto completo. Copre sia tutti gli aspetti di quello che è lo scenario in cui l'artiglieria oggi viene rivalutata, e così come il fabbisogno che ne consegue. Per cui anche c'è una ricca parte che esprime cosa stanno facendo le forze armate italiane, e avendolo confrontato anche con quello che riporta circa Francia e Germania, che conosco un po' meglio rispetto ad altre realtà, posso dire che lo studio è veramente completo e ben fatto, e credo possa diventare una buona base per tutti quanti coloro che vogliono approfondire questo tema. quindi veramente complimenti a loro. Dopodiché, poiché appunto dicevo, lo studio affronta in maniera molto chiara quello che fa bisogno della Forza Armata Esercito e i programmi che ha avviato, quindi che andiamo dall'FH 70 che è stato rivitalizzato, andando a riprendere la parte su cui ci si poteva ancora mettere le mani, quindi la possibilità è stata cambiata la capacità di muoversi, cambiato il motore per poter ridare questo sprint a questa capacità che aveva l'FH 70 tantissimi anni fa, perché ricordiamo che il nome 70 sta a indicare quando è stato pensato, e io non ero neanche nell'esercito all'epoca, quindi l'FH 70 già aveva in sé il concetto di spostarsi quanto più rapidamente, quindi sia per schierarsi, sia per rimuovere la batteria una volta effettuato il fuoco. Quindi lo stiamo, diciamo, riammodernando, mettendo un nuovo motore, passo coi tempi, ovviamente sistemi di puntamento nuovi, sistemi più integrati al comando e controllo, vista l'importanza, come è già stato detto, poc'anzi. Però se andiamo a vedere, e poi possiamo anche parlare di quello che si sta facendo per l'MLRS, che è stato portato allo standard più moderno, l'interesse che c'è verso l'IMARS, verso, si è parlato anche della possibilità di avere nuovi sistemi d'artiglieria su ruote per potersi muovere rapidamente. Quindi lo studio già affronta in maniera molto chiara. Mi preme però, quindi per non ripetere cose che già scritte in maniera molto chiara, volevo mettere l'accento su una visione un po' diversa, forse quello che non stiamo facendo. Perché l'artiglieria, a mio avviso, non l'abbiamo abbandonata in tempi recenti, l'abbiamo abbandonata molto tempo prima. Se noi pensiamo che nel secolo 900, all'inizio, e per tanti anni, fino a quasi la metà del Novecento, tutti quelli che progettavano artiglierie e munizioni, si basavano su Siacci, che era un italiano, su Burzio, Filippo Burzio, Cavalli, cioè erano tutti matematici, studiosi, che con metodi di allora avevano sviluppato quella che è l'artiglieria, quella che è stata l'artiglieria per anni. Burzio aveva addirittura già dimostrato, tantissimi anni prima dell'FH 70, che una munizione più allungata, quella che poi è diventata l'L15, era più stabile in volo. Quindi noi italiani eravamo dei leader del settore, tanto ad arrivare a un generale del servizio tecnico di artiglieria, di cui io ancora mi freggio in maniera indecorosa del simbolo, che sarebbe vietato, lo dico pure avendo un ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito qui in sala, ma io questo lo porto orgogliosamente, come molti altri di noi. Un paio di leader che sono concesse dalla regolazione. Esatto, quindi perché questo? Perché da anni, io diciamo sono nato con un indirizzo nel settore dell'artiglieria e non mi sono mai voluto staccare da questo. Quindi, proprio perché un giorno arrivò il calcolo numerico e quindi il metodo di Siacci, il metodo di Burzio, tutti quei metodi per calcolare le traiettorie a mano, sono stati sostituiti dal calcolatore. Calcolatore che in Italia, pur essendo stati comunque anche in quel settore dei leader, però poi ci siamo lasciati sopraffare dagli americani. Quindi il calcolo numerico di fatto ha ucciso la nostra artiglieria, cioè il nostro interesse come nazione a sviluppare quel tipo di scienza o di tecnologia. E siamo diventati dei seguaci di quello che facevano gli altri. Quindi, quando abbiamo fatto l'FH 70, la parte munizione, quindi la parte veramente della balistica esterna, l'hanno sviluppata gli inglesi. La parte di canna, quindi la parte di resistenza della canna alla pressione che viene generata al momento dello sparo, l'hanno sviluppata i tedeschi e noi italiani abbiamo fatto l'affusto e altri organi elastici e queste cose qua. Quindi già ci siamo autoritagliati un ruolo di secondo piano, pur essendo stati, in un settore dove eravamo dei leader. Poi siamo rimasti, diciamo, molto agganciati, ringrazio la Marina per questo, perché la Marina comunque ha continuato ad alimentare con il suo fabbisogno, diciamo, l'Odomelara, che ancora oggi è, tra l'altro, proprietaria del brevetto dell'artiglieria che aveva fatto Fuscaldi. Quindi un ufficiale, come dicevo, del servizio tecnico dell'artiglieria e quel pezzo fu fatto a Napoli, costruito, progettato e realizzato a Napoli. Allora, quindi l'artiglieria noi l'abbiamo abbandonata, almeno nel campo terrestre, l'abbiamo abbandonata tantissimo tempo fa. E poi siamo stati a inseguire quello che era il requisito che metteva in evidenza le altre nazioni. E li abbiamo seguiti. Ma non che fosse un male, perché poi alla fine non c'è niente di male a seguire i giapponesi, ce l'hanno dimostrato, i cinesi seguono le idee di altri, le perfezioni, quindi l'abbiamo fatto anche noi. Ora, l'artiglieria che ruolo ha oggi? Che ruolo vogliamo ritagliare? Allora, un conto è fare la guerra sul proprio territorio e un conto è farlo a casa di qualcun altro. Perché oggi ricerchiamo dall'artiglieria il tiro di di precisione. Quindi ridurre quanto più possibile i danni collaterali. E in questo settore l'artiglieria si trova tanti competitor. Perché abbiamo un munizionamento guidato, che può essere dell'artiglieria, ma anche di missili, razzi e così come i droni, loitering munition. E quindi chi più ne ha ne metta. Anche il tiro dell'aeronautica oggi riesce a raggiungere da chilometri di distanza punti con estrema precisione. Quindi l'artiglieria oggi, ricercando il tiro di precisione, sotto certi aspetti si trova a combattere, a sua volta contro tante altre tecnologie che possono svolgere lo stesso ruolo. Il fuoco di saturazione era il concetto principale dell'artiglieria fino a un po' di anni fa. Però significa ovviamente accettare danni collaterali molto più ampi. Allora, cos'è che lo frena oggi questo? Lo frena la nostra opinione pubblica. Cioè noi abbiamo un'etica, una morale, come popolo italiano, di una nazione occidentale, in Europa, che non ci permette di pensare di poter liberamente colpire l'avversario e fare danni a non finire. La Russia ci sta dimostrando che non la pensa alla stessa maniera. Quindi, poiché fa la guerra nel territorio di un altro, si può permettere un'artiglieria che faccia fuoco di saturazione, di sbarramento. Quindi l'artiglieria che abbiamo sempre conosciuto. Quindi la vecchia arma adotta, che era tale proprio perché i grandi matematici e i nostri artiglieri erano costretti comunque a valutare la tavola di tiro con molta attenzione in tutte le sue tabelle per poter, come citava già il generale Lamanna prima, dalla rotazione della terra, la latitudine, i dati medio. Quindi sparare con l'artiglieria una volta lo poteva fare chi aveva una certa mentalità. E' una certa addestramento che abbiamo detto che l'addestramento ora non c'è più. Allora dobbiamo capire. Noi oggi riammoderniamo l'FH70, ma per tanti componenti accessori, la canna è esattamente la stessa. Se adesso aggiungiamo questo aspetto, che questa canna, che oggi ha sparato poco, ma se domani dovessimo veramente adoperarla, quanti colpi potrà sparare? E siamo in grado di costruire canne nuove? Perché adesso si parla della rincorsa al munizionamento che non abbiamo, sulla bocca di tutti. Non abbiamo tante munizioni, dobbiamo di corsa recuperarle, non è facile, l'industria non ci può dar retta perché noi l'industria italiana nel settore l'abbiamo smantellata anno dopo anno, quindi oggi ci manca tutta la filiera, non abbiamo neanche la nitroglicerina, da cui si può partire proprio come l'elemento base per cominciare a fare qualsiasi altra cosa, per cui con tanta fatica stiamo cercando di recuperare il munizionamento. E le canne? In Italia non abbiamo acciaglierie, non ne abbiamo più, capaci di produrre acciaio per quanto ce ne dovrebbe servire se volessimo effettivamente utilizzare l'artiglieria e i numeri che abbiamo oggi non ci permettono di far durare quelle canne una vita, prima o poi si usurano. Tra l'altro noi abbiamo un altro problema, in Europa non possiamo cromare, quindi per aumentare la resistenza delle canne bisogna fare la cromatura, ma in Italia la cromatura, essendo pericolosa, danni a normarice, ci sono le deroghe per carità, però è sempre un'impresa, lo sa meglio di me. Il discorso è vero, mi fa molto piacere partecipare qui e riparlare dell'artiglieria, a cui vedete sono molto legato, però il discorso è veramente complesso, non basta semplicemente rimettere fondi, dare disponibilità, che è la prima cosa che può fare un governo, dare la disponibilità di fondi, ma in realtà dobbiamo ricostruire tanto da capo. Quindi ci sono tanti progetti, la Forza Armata Esercito si sta veramente impegnando, il Segretariato della Difesa sta facendo tutto quello che è nelle sue possibilità e sto per certo che anche l'industria sta cercando di sopportarci, però l'avere abbandonato l'artiglieria italiana oltre 70 anni fa adesso è dura da recuperare. Con questo messaggio ottimista vi ringrazio. Molto, molto ottimista devo dire che chiudere, meno male adesso c'è l'ingegnere Mariani che deve fare un intervento super positivo perché è iniziato dalla storia ma poi è arrivato a noi e quindi insomma un intervento molto pragmatico che ci ha calato nella situazione attuale italiana, grazie Generale. Bene, abbiamo sentito quindi le Forze Armate, il lato del primo della politica, lo IA con il report, ecco appunto come si sta muovendo l'industria e Lorenzo Mariani e poi diamo la parola agli ospiti se qualcuno vuole fare qualche domanda, credo che Carlo Festucci si sia già prenotato. Grazie Allora innanzitutto io sono in un pesantissimo conflitto di interesse perché io nasco missilaro quindi mi verrebbe da dimostrare che poi non è vero ma in realtà devo ammettere che quello che sta scritto nel report e quello che illustrava in particolare l'ammiraglio Berutti è vero, considerazioni di trade off costo precisione perché poi alla fine è tutto lì, raccomandano l'utilizzo dell'artiglieria se non altro aggiungo io nel concetto di dual layer perché poi non vorrei anche da questo punto di vista che si arrivasse anche per i missili a una situazione in cui si trascura per troppo tempo poi, ci siamo già caduti anche in maniera abbastanza recente, un bisogno importante, una risposta importante a delle minacce nel nome del costo o nel nome del non ci servirà mai perché abbiamo visto che non è così. Comunque quindi a parte queste considerazioni e il dual layer direi che noi come Leonardo ha detto benissimo e Gianni Leone che ha raccontato tutta la storia di conseguenza su questo non mi di lungo, comunque siamo presenti sul terrestre e sul navale come sapete in maniera molto diversa, molto diversa direi perché sul navale tra 76 e 127 capacità di guida, devo dire abbiamo dato anche e devo dire, lo dico, sicuramente anche grazie al fortissimo esercizio di pianificazione che ha sempre fatto la Marina, in particolare su Otomelara, oggi abbiamo una capacità anche fortissima di esportazione, di fornire queste soluzioni in tutto il mondo, cosa che nella parte terrestre storicamente, adesso non analizziamo le ragioni ma comunque le ha dette in sostanza il generale De Leone, questo non è così. Non voglio ripercorrere temi né operativi né tecnici ma brevissimamente mi limito al guardare avanti, secondo me noi guardando avanti abbiamo due, tre punti fondamentali, primo, tecnologie e tempi associato a produzione di massa e tempi, quindi i tempi ci sono sempre, sia nello sviluppo delle nuove tecnologie sia nel realizzare una produzione di massa. Allora, requisiti secondo me, tecnologia è più importante ancora. Si è parlato di cyber, io condivido con il generale Lamanna che sicuramente quando si parli di artiglieria si dimentica spesso che poi è un sistema complesso, fatto di 5-6 blocchi, quindi anche la cyber è importante, ma prima della cyber io mi preoccuperei dello spettro elettromagnetico. Secondo me, uno degli insegnamenti dell'Ucraina è stato che tra GPS denied, electronic warfare e tutto quanto, quello è la prima cosa che ti ferma e non quando mandi una munizione guidata, un missile e non probabilmente il puro esercizio di cyber attack. Su questo stiamo lavorando molto, perché effettivamente avere una munizione, un missile che sia in grado di operare in questo ambiente particolarmente inospitale, secondo me è il primo dei requisiti del futuro. Sicuramente bersagli diversi, quindi unmanned, sciammi di droni, sicuramente incrementare ulteriormente la precisione, incrementare la capacità delle spolette 3AP e 4AP che abbiamo. Quindi sono tutti i lati che stiamo studiando, effettivamente time is of the essence, cioè lì bisogna arrivarci nei tempi che 3-4 anni fa non ero nemmeno pensabile e oggi invece lo sono. Produzione, massa, anche là ci siamo accorti che non eravamo più capaci di produrre, quantità e bisogna arrivarci. Secondo me lì esistono due punti, io là elaboro leggermente quello che ha detto Gianni Leone. Prima cosa, sicuramente ci dobbiamo accorgere che abbiamo una supply chain che abbiamo abbandonato, la supply chain è abbandonata, l'acciaio è vero, l'acciaio non ce l'abbiamo, le canne senza acciaio non si fanno. Sicuramente gli esplosivi, ma ricordiamoci che in molti casi non abbiamo consentito a piccole e medie imprese, anche elettroniche, di fare i loro adeguamenti, di attrezzarsi con le loro linee. O abbiamo pensato che i componenti andassero bene sempre quando arrivavano da Taiwan, salvo poi pensare che non è sempre così corretto, o dall'America. Allora, questo secondo me è un vero blocker e non è un blocker che risolviamo in un anno, assolutamente, è vero. Quindi lì non è solo questione di tempo, è questione di volontà, io lo farei a prescindere, perché secondo me questa situazione che c'è oggi è una situazione che non ci abbandonerà in pochi mesi o in pochi anni. Ma ce n'è un'altra, io insisto che invece il tema economico è un tema comunque fondamentale, perché per fare produzione di massa, per riequipaggiare le grandi linee di produzione, sicuramente nella grande industria, ma soprattutto tutte piccole e medie imprese, comunque un investimento importante serve. E oggi, questo è uno dei casi, io lo dico sempre a costo di sembrare un po' ridicolo, ma il 2% è l'elemento, il 2% del PIL come spesa sulla difesa, è una cosa ineludibile. Stamattina a un altro convegno, facevamo i conti di quanto rappresenta, lo dico a tutti, oggi su una spesa per gli acquisti di, correrete se sbaglio, ma di poco, 8 miliardi e mezzo, 8, 9, così, stiamo parlando di ulteriori 10 che ce ne sarebbero, quindi stiamo parlando di un numero enorme in realtà. Oserei dire che forse è anche arduo pensare a come spenderli questi sull'industria nazionale, però meglio avere il problema di come spenderli che avere il problema di non sapere come attrezzare una linea di produzione. Quindi questo, secondo me, è un tema che rischia poi di rendere tutti questi discorsi che noi facciamo anche un po' velleitari, perché comunque, sì, è vero, non bastano i soldi, ma senza i soldi non riusciremo a fare questo che noi stiamo dicendo di voler fare. Da ultimo, visto che oggi si parla molto di accordi di partnership, solo una precisazione, gli accordi di partnership sono di diverso tipo ed è sbagliato parlarne in maniera generica. Ci sono accordi di coproduzione e allora in questi casi bisogna preoccuparsi che tutte e due le linee di produzione, diciamo, dei due partner abbiano le stesse possibilità e torniamo al tema delle supply chain, perché se uno ha una linea di produzione a caso in Germania e uno in Italia, però la supply chain è tutta tedesca, è come non averla a linea di produzione. Ci sono rapporti in cui semplicemente si produce su licenza, ma possono anche andare. Noi abbiamo dato il 76, non l'ultimo ovviamente, nei progetti guidati, ma l'abbiamo dato, perché abbiamo moltissima produzione e export. Ed è un prodotto di cui deteniamo la system design authority, perché secondo me la vera capacità poi dell'industria, che è anche legata alla sicurezza del Paese, è la system design authority del prodotto. Quindi così come l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo a volte importato, il PZH. Voglio dire, in PZH c'è una produzione su licenza, abbiamo fatto, e nessuno se ne ha avuto a male. Però bisogna avere chiaro qual è la componente che dà veramente la garanzia di sovranità tecnologica all'industria e quindi anche al Paese. Detto tutto questo, io la vedo un pochettino, sin troppo facile dirlo, a luci e ombre. Sicuramente la presa di coscienza e la discussione è importante. I due temi veramente che mi preoccupano sono quello dei finanziamenti e quello di come poi questi finanziamenti si calano, in particolare sulla piccola e media impresa, specialistica di settore e materiali. Grazie. Bene, io vi ringrazio. Adesso non so se c'è qualche domanda da parte di qualcuno. Forse Carlo si era prenotato. Diciamo, diciamo, un po' pilotato. Però c'è un microfono accanto a te, quindi. Però non so se c'è qualcun altro che vuole avanzare una domanda. No, l'unico coraggioso è Carlo Costucci. Perché rovinare un convegno tanto carino? Guardate, facciamo così. Io faccio un piccolissimo ragionamento. Uno da industriale e uno da cittadino politico, mettiamola così. Da industriale sottoscritto totalmente quello ha detto Mariani. Non perché lui è un'industria autorevole, ma perché è esattamente quello di cui noi abbiamo difficoltà a ragionare. Cito un esempio per tutti, e non parlo di artiglieria perché così non entro nel merito di queste cose. La subacquea. Noi sono ormai più di un anno che discutiamo che la subacquea è strategica. Noi pensiamo di far diventare la subacquea uno dei centri di eccellenza del nostro Paese in Europa e forse a livello internazionale. Non ci sono, non c'è un euro dentro. Se voi pensate che è possibile avere una dimensione, perché non è una dimensione di questo tipo, senza fare investimenti, è del tutto evidente che stiamo ragionando. La cosa che mi viene in mente è che se noi ragioniamo, dovessimo vincere le guerre con le chiacchiere, le avremmo vinte tutte. Tutte. Quelle passate vinceremo anche quelle future. E questo non dico le chiacchiere dei militari, eh? Le chiacchiere dei politici. Tanto per essere chiaro. Purtroppo non siamo in questa situazione. Quindi dal punto di vista industriale ha ragione Lorenzo. A noi tutti ci chiedono raddoppiare le linee. Ma per raddoppiare una linea di produzione non basta mica deciderlo, eh? Bisogna sapere qual è l'investimento, quante persone deve assumere, quanto dura l'investimento. Perché se ci sono anche dei soldi, ma tutto dura tre mesi, perché poi pensiamo che la cosa finisca, non è praticabile. Perché che tipo di raddoppio si fa? Parliamo di proiettili o parliamo di elicotteri? O parliamo di aerei? Che se la flotta aerea forse abbiamo qualche problema in più che non fare quello di... Quindi voglio dire, è molto complessa la cosa. La cosa vera è la politica. Guardate che mica è vero che c'è stato di interesse da parte degli addetti ai lavori a occuparsi delle questioni che tutti avete discusso. C'è stata oggettivamente una debolezza di rapporto politico con il Paese. Noi ci siamo vergognati di sostenere le nostre tesi. Ci siamo vergognati di dire che questo Paese ha bisogno della propria difesa. E ogni volta che si andava a discutere, nessuno aveva il coraggio di dire «Volete abolire le industrie della difesa? Chiedete l'abolizione delle forze armate». Perché è l'unica cosa seria da fare. O si aboliscono le forze armate o l'industria della difesa è fondamentale. Per due ragioni. Primo, perché serve. Secondo, perché se la deleghiamo a un altro Paese, fino a che ti amico funziona. Quando non è più amico, la cosa è finita là. Allora, questo è il problema di fondo. E quando anche Matteo, il sottosegretario, sosteneva le questioni politiche. Ha ragione a dirlo. Peccato che siamo qui con una guerra di ritardo. Perché se siamo con una guerra di ritardo, questa l'abbiamo già persa. Io faccio l'esempio del Covid. Noi col Covid ci siamo trovati a non avere né un piano per affrontare il problema, né le mascherine, tutti quelli che erano i dispositivi. Ci sono due ragioni per pensare perché non le avevamo. La prima era perché eravamo stupidi o scientemente stupidi e non abbiamo organizzato i piani. La seconda è perché se noi, io sono sicuro, che se avessimo avuto le mascherine in abbondanza, nei depositi, qualcuno ci avrebbe denunciato per aggiotasso perché avevamo messo da parte i cose. Cioè, questo è un Paese strano. Perché purtroppo è così. E qui è la stessa cosa. Oggi, io penso per esempio che il Ministro abbia fatto molto bene a dire che noi se ci attaccano in tre giorni siamo morti. Perché è così. Io ragionavo con l'ammiraglio Berrutti Bergotto e con l'ammiraglio Gretendino. Mi ricordo di una discussione che facevamo qualche tempo fa. Ci diceva, ma noi se ci attaccano parliamo un po' di colpi e poi finisce là. Allora, questo è il problema che abbiamo davanti. Allora, prima ancora di entrare nel merito delle discussioni di carattere tecnico, dobbiamo risolvere un problema di paradigma politico e mentale. Cioè, noi dobbiamo decidere che le nostre forze armate sono fondamentali, perché senza di quelle noi non... Adesso faccio anche qui un altro esempio. Noi spesso paragoniamo, ah, con un F-35, quanti ospedali si fanno? Quanti? Oggi, se noi fossimo attaccati, non discuteremmo di quanti ospedali si fanno, quanti ne sono distrutti gli ospedali e non sapremmo dove mandare i malati. Cioè, questo è il problema. Ma noi, fino ad oggi, abbiamo avuto paura a dire queste cose. Ce l'abbiamo avuta noi, io parlo sempre delle mie paure, ma ce l'ha avuta voi, ce l'avete avuto, e ce l'ha avuta la politica. Questo è il problema di fondo. O risolviamo questo paradigma, o se no, noi possiamo fare tutti come di questo mondo. Facciamo quello sull'artilleria, diremo che serve, che però non ci abbiamo i colpi. Faremo quelli dell'aeronautica, e qualche anno fa avevamo scoperto che se non partivamo il 31 dicembre sul camminiere non avevamo neanche la difesa aerea. Se lo facciamo sulla marina scopriamo che non ci sono munizioni abbastanza, o abbiamo i motori delle navi che non riescono a essere riparati perché mancano, come dire, i materiali. Questa cosa non si risolve tecnicamente. Si risolve con investimenti e con scelte politiche precise. Questo è il problema di fondo. Capisco, avete rovinato il convegno, però... No, non ha distrutto solo il tema dell'artilleria, anche l'underwater è andato a distrutto. E io rinforzo ulteriormente quello che dice Carlo, così siamo venuti insieme a fare i disturbatori, io da cavallo di Troia. Allora, faccio tre esempi di cose che secondo me... Perché sono tre esempi da vendare... Ma non è vero, ce l'avevamo parlato prima. Allora, uno, ma quanto i fondi MIMIT esistono perché veramente servono per sviluppare l'industria e quanto servono perché 15 anni fa non si poteva dire che c'erano più soldi per le forze armate? Io la risposta ce l'ho, perché lo so, perché mi ricordo come sono nati. Però siamo sicuri. Secondo, c'era bisogno della guerra d'Ucraina per capire che servivano i depositi un po' più pieni di munizioni e di missili. E qui faccio polemica. Ma se veramente bastavano quelle quantità che avevamo in stock, ma valeva la pena spendere quello che abbiamo speso per sviluppare una ster, seppure in due nazioni o tre nazioni? Vogliamo fare i conti di quanto costa una ster a quanto l'abbiamo comprata noi? Se ci metti dentro tutti i non ricorrenti? Vabbè che pure qualche aereo ci avrei da dire, però... Terzo, se mettiamo in fila, e vado sulla burocrazia, perché poi è inutile che parliamo, se poi urgenza, urgenza è un cavolo, se noi mettiamo su un diagramma, l'abbiamo fatto questo esercizio, tutto quello che c'è da fare per, diciamo, da quando uno di voi si alza e dice che io ho un'esigenza, a quando si firma il contratto, si firma il contratto, che poi non è la prima consegna, si firma il contratto, non riusciamo a metterlo in un A4, l'abbiamo messo in un A3, un A3, diciamo, più o meno si capisce, e l'UGPPB ci dice giustamente che servono tre anni, non c'è verso. Oggi perché c'è il ministro che c'è ci mettiamo tre anni, ma se no ce ne metti sei. Allora, queste sono tutte cose di un Paese che giustamente ha scelto n anni fa che non si deve parlare di guerra, salvo che poi magari la guerra ti stacca l'energia, non ti fa arrivare il grano al doppio del prezzo, non ti fa arrivare l'energia, e allora però ci incazziamo. Scusate. Questo per chiudere, forse vuole aggiungere qualcosa in quella. Non è che siamo in ritardo, per cui non dobbiamo guardare a queste problematiche, pure in ritardo dobbiamo innanzitutto renderci conto che questo ritardo va in qualche modo affrontato e colmato. Ma forse una parte che manca qua dentro è, diciamo, una parte molto importante ed è appunto la parte accademica, che insieme all'industria, insieme all'esercito, forse dovrebbe costituire quel triangolo magico per cominciare a lavorare seriamente. perché i siacci e i cavalli, va bene, i bianchi, giusto per citare qualche nome, i ebursio e così via, i vari piccone e così via, maestri di balistica, non è che nascono perché nel DNA abbiamo, come dire, siamo il paese dei geni. Noi abbiamo bisogno che presso le università si ricominci a studiare materie come balistica. Ditemi una università dove si studia balistica. Eppure balistica è la sintesi eccezionale, va bene, di quello che è il concetto disciplina STEM di cui stiamo parlando, anche grazie al sottosegretario Rauti. La balistica, non lo devo dire io, a voi, me lo insegnate, riguarda chimica, scienze, riguarda meccanica, meccanica applicata, riguarda fisica. Ma oggi andiamo a vedere anche i nostri programmi di balistica, sono ridotti all'essenziale. Poca matematica, poche formule. Forse perché i calcolatori ci sostituiscono in tutto. Non abbiamo più, manco, diciamo, messo in, come dire, su un foglio di Excel la formula, va bene, di calcolo, no? Del metodo Rungekut o altri metodi per sviluppare la traiettoria. Anche solo farlo in modo, va bene, a modo di esercizio. Quindi abbiamo veramente perso, secondo me, tanto tempo a guardare ad altre discipline. E secondo me dovremmo partire di nuovo, e in Accademia e nella scuola di applicazione, stiamo ripartendo proprio da queste fondamentali. Concludo dicendo che tre anni fa, eravamo in questo periodo, a Tor di Quinto, la Marina ha organizzato un bellissimo seminario sui tre domini, ma in particolare mi rimase impresso l'intervento di una professoressa della Sapienza, che disse, nel parlare del problema dei missili ipersonici, disse, guardate, forse faremo bene a riconsiderare e a metterci intorno al tavolo lo studio di questi materiali, dei materiali che servono per costruire un missile ipersonico, i sistemi di navigazione, i sistemi radar che dovrebbero intercettare questi missili e così via. Ma dovremmo metterci soprattutto a praticare di nuovo questa sperimentazione nelle gallerie del vento, perché a certe velocità il comportamento dei materiali è completamente diverso e le risposte sono completamente diverse. Quindi, io ricordo che la professoressa, l'ho contattata subito dopo, sono convinto che a distanza di tre anni non ha visto ancora nessun progetto, va bene, intorno a questo, va bene, tavolo, della costituzione di una galleria del vento dove poter cominciare a studiare i problemi, va bene, a queste altissime velocità. Con questo ci volevo dire... Grazie generale, grazie mille. Un commento forse anche dell'ammiraglio Beruti Bergotto e poi possiamo chiudere. Io volevo dire una cosa. Hai ragione, Lorezzo, hai ragione. Però noi come Marina Militare abbiamo visto sempre l'artiglieria come parte dell'unico nostro sistema d'arma, la nave. Quindi, in tutto il tempo, abbiamo sempre sviluppato, insieme all'industria, cioè il fatto che noi, dal punto di vista dell'artiglieria, siamo, io oserei dire, i primi in tutte le marine, sia nell'utilizzo e sia sui sistemi, è perché noi abbiamo sempre lavorato con voi nello sviluppo dei sistemi e nelle prove, perché poi la galleria al Balipedio è un ente marina, un ente tecnico marina di Mariperlo, il CSSN, e ci ha sempre permesso di migliorare, sia dal punto di vista balistico, ma sia soprattutto dal punto di vista integrazione col sistema di combattimento. Quindi io, oggi, dico la Marina Militare Italiana, dal punto di vista artiglieria, è la Marina. Noi siamo una Marina di riferimento, non dico con le marine del nostro livello, ma anche gli Stati Uniti ci guardano come riferimento per l'utilizzo dell'artiglieria. Per i missili è un altro discorso. Basta. Ma questo grazie al rapporto che c'è stato con la nostra litta, con la nostra azienda di riferimento, che ci ha permesso di progredire insieme e credo che sia soltanto una cosa particolare della Marina. Ma certo. La pianificazione intendevo quella. Potete passare il microfono gentilmente al generale. Abbiamo attivato, dai. No, sono costretto per una massima... Abbiamo demolito l'artiglieria e l'underworld, cosa vuole demolire? No, solamente vuol dire che i missili, cioè tutto quello che va oltre il tiro diretto, è comunque artiglieria, nel senso che l'artiglieria missili non è un mistero, eccetera, per cui diciamo che alla fine ci occupiamo anche di quello. A questo punto che c'è il microfono dico solo una cosa per rafforzare da uomo di UGPPB. Io lo dico sempre quando tutte le fotografie di quelli che mi hanno preceduto dico pensate che io sono più bravo di loro, sarò tipo loro, per cui se ce la mettiamo tutta facciamo tipo quello che hanno fatto loro. Allora, dal punto di vista di quelle che sono le regolamentazioni in vigore, le procedure, le regole, tutto possiamo diventare anche Jacobs, però tanto più di quello non riusciamo a fare. È questo il momento di una variazione totale, anche della qualificazione della spesa, perché noi parliamo prima e parliamo dell'investimento, ma tutta quella roba tipo l'addestramento e tutto, poi se abbiamo anche 40 miliardi di investimento, poi non riusciamo a farlo valere. Cioè dobbiamo rivederla completamente perché diventa tutto uno, la patrimonializzazione esiste solo se funziona e si muove, altrimenti non c'è e poi rivoluzionare il modo di fare le cose perché o si è flessibili oppure non si è all'altezza delle sfide che ci sono. Grazie. Se passa il microfono al generale Candotti vuole aggiungere anche una cosa. Non voglio entrare in polemica con l'ammiraglio Agostini perché abbiamo fatto tanti anni assieme allo Stato Maggiore della Difesa e siamo stati diversamente traumatizzati e quindi abbiamo ancora delle straschi psicologici che delle volte non rendono il ragionamento logico e coerente. Però Fabio Agostini ha identificato delle sfide che mi sono annotato. Siccome si parla di artiglieria forse non l'ho captata, ho sentito cyber, ho sentito comunicazione, ho sentito spazio, ho sentito comando e controllo. Quando si parla di artiglieria prima di tutto si dovrebbe parlare di a che cosa sparo e perché. Oggi penso che abbiamo delle difficoltà noi a capire a che cosa sparo e perché. Perché forse la modalità in cui ho organizzato la nostra intelligence che oggi non ho sentito nominare qua dentro non è adatto a rispondere nei tempi e nei modi in cui un sistema d'arma che spara 60.000 colpi al giorno dovrebbe essere alimentato in termini di informazioni, di targeting, chiamiamole così. E forse una grande riflessione anche su questo settore andrebbe fatta. Grazie generale, io non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Ok, l'ultimo e poi chiudiamo. Io volevo fare una domanda, sono il generale Sganga, vengo dal segretariato generale della difesa. Diciamo, tutti gli interventi di oggi mi pare che si sono concentrati su un aspetto che è quello di colmare il gap che stiamo vivendo per quanto riguarda l'artiglieria. Però non dobbiamo dimenticare che dobbiamo proiettarci anche al futuro, cioè non dobbiamo concentrarci su ciò che ci manca adesso e raggiungerlo il prima possibile, ma dobbiamo guardare avanti per evitare di combattere la prossima guerra con la tecnologia che invece stiamo cercando di colmare. Detto questo, mi farebbe piacere sapere, magari dall'industria, dall'ingegner Mariani, che non vedo da un sacco di tempo, su quali tecnologie stiamo puntando, perché al di là del missile convenzionale, del proietto da 155 vulcano, eccetera, eccetera, stiamo guardando, per esempio, ad armi ad energia diretta, stiamo guardando a missili personici e se così fosse, come vorrebbe l'industria avere una sinergia diversa con l'esercito al fine di sviluppare insieme, magari con i giovani, questo genere di tecnologie innovative? Grazie. Grazie, generale. Grazie, generale. È stato breve, ma è articolata. Allora, sicuramente le due famiglie che ha toccato sono assolutamente allo studio, quindi Direct Energy Web sicuramente sì. Oserei dire che è un tema, no, oserei dire, lo dico, non solo di esercito, ma sicuramente in ambito Gcap è una delle tecnologie che sono sul tavolo, in ambito Marina addirittura sono uscite per DDX nel requisito e stiamo facendo delle sperimentazioni insieme a MBDA, tra l'altro, quindi è un buon esempio anche di lavoro insieme a MBDA, sperimentazioni che stiamo conducendo essenzialmente a Pomezia proprio per valutare, diciamo così, sia il sistema di collimazione che è più semplice, poi alla fine come problematica, che invece il sistema di potenza che è dove casca l'asino, perché poi anche là trovi sempre qualche cosa che nella catena del valore italiano non trovi e il laser di potenza è chiaramente, il dio di potenza è uno di questi. Ci si attrezza, ci si attrezza, però ci vuole tempo, quindi assolutamente sì quello. Abbiamo rapporti con l'università specifici e secondo me abbiamo cominciato già qualche cosa anche a livello di collaborazione piuttosto informale, devo dire, quindi secondo me converrebbe formalizzarla con le Forze Armate e su questo io mi rivolgerei proprio a Segre Difesa, ovviamente. E dal punto di vista dell'ipersonico ci siamo più, diciamo, tenuti sui sistemi anti-missile ipersonico, sia per quanto riguarda l'Effector, ma l'Effector voglio dire è una cosa talmente complicata che richiede collaborazione internazionale, quindi è il progetto AIDIS dove MBTI è a pieno titolo, però lì è stato oggetto anche di uno studio. Non siamo vicinissimi. Adesso siamo in un ambiente abbastanza open, non sottovaluterei le capacità degli oggetti esistenti o in via di qualifica anche in alcune fasi e per alcuni tipi di minaccia ipersonica. Sicuramente la parte del sensore, del radar, perché poi sia che sia radar, sia che sia, in questo caso è più infrarosso che non radar, algoritmica sull'Effector, questa è una parte delicatissima dove tra l'altro c'è un know-how italiano sia sull'infrarosso sia sul radar italiano ed europeo, importantissimo, e si può fare sia una forte progressione nazionale sia un accordo con, per esempio, con gli amici francesi o anche con l'Inghilterra. Grazie. Grazie. Io davvero ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, che siete intervenuti, grazie a tutti i relatori. È stato un dibattito molto utile sui ritocchi, possiamo dire, molto pesanti che il nostro Paese deve fare sull'artiglieria e non solo. è uscito fuori anche il tema del 2% e del budget perché sappiamo bene che tra poco ci sarà il Summit a Washington della Nato, il tema tornerà molto più all'ordine del giorno. Come sappiamo nel nostro Paese d'altronde ciclicamente ritorna sempre ma non lo dobbiamo perdere di vista. Io davvero ringrazio l'OIAI per questo momento di confronto. Grazie a tutti e alla prossima. Arrivederci. Grazie a tutti.